Nessuno sapeva da dove venisse, nessuno sapeva perché fosse lì e cercarono di scoprirlo. Sei diretto a nord o a sud? Nord. Dai, salta su, così ti metto nella direzione giusta. Dove posso mangiare un boccone? C'è una tavola calda a 30 miglia sull'autostrada. C'è qualche legge che mi proibisce di farlo qui? Sì, la mia. Fermate questo signore per vagabondaggio, resistenza all'arresto e possesso di un'arma illegale. Lo provocarono. Cominci a starmi antipatico, è tanto. Lo picchiarono. Ok, Ward, lascia stare il sapone, questo è un duro, fagli la barba secco. Non ti muovere, non voglio che ti tagli la gola da sola. Lo costrinsero alla lotta. Sei finito! Non ci puoi arrivare! Vuole raggiungere la cima. È intrappolato lassù. Non può più uscire senza incontrarsi. Lo braccarono come un animale selvaggio. Eccolo là! Si difese con tutti i mezzi. Lasciami stare. Lasciami stare o scatere una guerra che non trassogni neppure. Lei e i suoi uomini non siete riusciti a niente fino ad ora. Cosa vi fa pensare di riuscirci adesso? Perché ci sta combinando troppi casino. Sembra che lei non voglia accettare il fatto che si trova di fronte un esperto di guerriglia. Vuol dire che 200 uomini contro il suo ragazzo non sono in condizioni di averne ragione? Se li manda lassù non dimentichi una cosa. Una buona scorta di parelle. Quando capirono che non si sarebbe mai arreso, fu troppo tardi. Il suo nome era Rambo.